Se ci fai chiudere, chiude la nazione. Senza di noi l'Italia non esiste. Non è bastato il varo del decreto ristori appena pubblicato con una edizione straordinaria in gazzetto ufficiale. A placare le proteste di commercianti, ristoratori, baristi, operatori delle palestre, titolari di centri scommesse e piccoli imprenditori artigiani che a Pescara, così come avvenuto in maniera più pacifica all'Aquila e Vasto, ieri hanno manifestato contro il nuovo DPCM del governo Conte che di fatto ha determinato un nuovo lockdown per queste categorie. A Pescara la protesta si è quasi trasformata in rivolta alla fine della manifestazione in Piazza della Rinascita organizzata nel pomeriggio da Confcommercio CNA Confartigianate e Confesercenti. Ad alimentare la tensione già palpabile, l'arrivo in ritardo del sindaco di Pescara Carlo Masci contestato duramente e accusato di aver vessato con le multe e controlli della Municipale gli esercenti della città. Dopo la fiaccolata e la manifestazione ufficiale, un corteo non autorizzato con all'interno anche antagonisti e componenti di estrema destra ha attraversato le vie del centro dirigendosi verso Piazza Italia, sede di Prefettura e Comune. Qui urla, spintoni, insulti e lancio di fumogeni tenuti a bada solo dall'intervento degli agenti della questura in assetto antisommossa. Fortunatamente il tutto si è risolto senza danni e soprattutto senza feriti, ma il vento di protesta soffia forte anche in Abruzzo, dove il malcontento per le chiusure si sta sommando alle difficoltà economiche aggravate dalla pandemia Covid. Per questo quattro richieste sono state avanzate dalle associazioni di categoria. La sospensione dei canoni d'affitto e il credito d'imposta da cedere direttamente ai locatari, l'azzeramento dei costi delle utenze, la pace fiscale e gli aiuti economici. Richieste che sono state consegnate proprio nelle mani del sindaco di Pescara Carlo Macci e che approderanno in Consiglio Comunale per arrivare poi a Lanci e di qui a Regione Governo. L'attenzione a Pescara comunque si è sciolta alle ore 22, quando il corteo non autorizzato dopo una mezz'ora di cori e proteste sotto la sede della Prefettura si è sciolto e tutto è tornato alla normalità.